Questo è il massiccio del Gen Argentu, l'aspro cuore della Sardegna. E questa è la base di una nostra troupe che per 15 giorni, armata di teleobiettivi e di tanta pazienza, si è aggirata tra le impervie montagne della zona per ritrarre il rarissimo e diffidente Muflone. Un animale un tempo frequentissimo, ma ridotto in seguito alla spietata caccia a pochi esemplari, oggi protetti da severissime leggi che tuttavia non potranno che ritardare la totale estinzione. Estinzione che dopo un centinaio di chilometri massacranti e inutili, i nostri tecnici ritennero fosse già avvenuta. Ne valeva a confortarli il laconico ottimismo delle taciturne guide. Di tanto in tanto le macchine da ripresa venivano sistemate in posizione dominante e le guide partivano in perlustrazione. Tornavano, scuotevano la testa e si immergevano in profondissime meditazioni. Ma quando lo sconforto si era già insediato tetramente nei cuori, ecco improvvisamente a non più di 300 metri di distanza apparire il tanto sospirato ruminante, anzi per meglio dire un piccolo branco, costituito da due femmine riconoscibili perché prive di corna, da un giovane maschio e dall'anziano capofamiglia che sfoggiava fieramente un magnifico paio di corna di quasi un metro di lunghezza. Il muflone è una specie di grossa capra che raggiunge un'altezza alla spalla di circa 80 centimetri e pesa un buon mezzo quintale. Il pelo è raso, rossastro d'estate molto più scuro d'inverno. Il muflone è dotato di vivissima intelligenza e di ottima memoria. Vive in piccoli gruppi che ubbidiscono disciplinatamente al maschio più battagliero. È lui che sceglie i pascoli, che tiene l'ordine, che vigila sulla comune incolumità. E fu lui che quando più che vedere intuì la presenza dei nostri tecnici, con il suo caratteristico fischio diede l'allarme.